Buongiorno e bentrovati gentili telespettatori di Teleprima ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione. Il prima Tg che apriamo con l'andamento della curva epidemiologica sul territorio nazionale sono 7.767 i nuovi positivi al test Covid nelle ultime 24 ore. Leggendo quelli che sono i dati del Ministero della Salute, 421 le vittime in una sola giornata. Sono stati 112.962 i tamponi tra molecolari ed antigenici elaborati con il tasso di positività in netto calo rispetto alla giornata di lunedì dove ha toccato il 10,4 scende di tre punti e mezzo e si attesta al 6,9%. I campani invece i dati di consueta competenza dell'unità di crisi regionale nella giornata di martedì 6 aprile certificano 846 nuovi positivi di cui 323 persone sintomati che i tamponi molecolari sono stati 6.505 gli antigenici 872 per un tasso di incidenza del 13%. Le vittime sono state 62 di cui 41 scomparsi nelle ultime 48 ore e 21 in precedenza ma contabilizzati soltanto. Nel più recente bollettino sono 1.380 i guariti. Per quanto concerne il report di posti letto su base regionale sono 656 posti di terapia intensiva a disposizione della regione e ne sono occupati 160. Sono invece 3.160 i posti di degenza ordinaria tra offerta pubblica e privata. Ne sono occupati 1.603. giornata importante per il futuro della vaccinazione in Italia e non solo perché oggi alle 16 ci sarà il verdetto dell'EMA sul vaccino di AstraZeneca con l'agenzia europea pronta a pronunciarsi sul presunto legame tra il preparato anglo-svedese e i rarissimi casi di trombosi venosa cerebrale che hanno colpito nei 30 paesi dello spazio economico europeo 44 persone su oltre 9 milioni di vaccinati. Secondo quello che già attrapelato nelle ultime 24 ore l'EMA potrebbe aggiornare le proprie valutazioni riconoscendo dunque questo legame tra il vaccino e la trombosi fermo restando comunque che i benefici superano di gran lunga i rischi. Dunque sarà presumibile una delega ai singoli stati per decidere come andare a somministrare nel modo più sicuro possibile questo siero. Ad esempio in Francia viene già somministrato agli over 55 e agli over 60 in Germania e over 65 in Finlandia. In Italia comunque si sono intensificati i controlli con l'Agenzia Nazionale per il Farmaco e il Ministero della Salute e prende sempre più piede la possibilità di destinare AstraZeneca solo alla popolazione anziana dunque over 60 o over 65. Naturalmente questo limite andrebbe a rallentare ulteriormente quella che è la campagna vaccinale e quelle che sono le possibili cause di riferimento a questi episodi tromboembolici sono stati spiegati dal responsabile dell'EMA Marco Cavaleri che ha detto la più avvalorata tra le ipotesi che colpisce ad esempio le donne giovani c'è una risposta autoimmune a seguito dell'inoculazione della dose che porta all'attivazione di alcuni fattori di abbassamento delle piastrine andando a influire sulla coagulazione del sangue causando poi quelli che sono gli eventi tromboembolici. Giornata di proteste. Ieri non solo per quello che riguarda l'autostrada sul tratto casertano della Napoli-Milano con tantissimi operatori mercatali che hanno causato oltre un chilometro di coda una protesta durata circa dieci ore una situazione difficile una situazione complessa che sta colpendo gli operatori del settore per la zona rossa ma grande tensione anche davanti il palazzo di Montecitorio con numerosi oggetti e bottiglie lanciate contro le forze dell'ordine. I manifestanti hanno tentato di sfondare le transenne che delimitano la piazza per irrompere nell'area antistante la Camera dei Deputati. Cariche continue con la polizia e un agente è rimasto ferito nei tafferugli. I protestanti sono andati a lamentare i mancati ristori e le nette difficoltà legate alla pandemia e ci sono stati momenti di grande tensione alternati a slogan contro il governo Reo di aver abbandonato queste categorie. Oltre 6.000 medicinali di origine cinese tra cui i farmaci venduti come anti-covid sono stati sequestrati dai carabinieri del NAS di Torino. Questi medicinali erano privi delle autorizzazioni AIFA ed EMA. Le indagini sono partite lo scorso gennaio dopo la scoperta di alcune confezioni di medicinali chiuse all'interno di una rivendita al dettaglio di generi alimentari. I medicinali erano stoccati in una rivendita all'ingrosso con sedi a Prato e Firenze di proprietà di un cinquantenne che è stato denunciato. I medicinali sono stati rinvenuti a seguito di alcune perquisizioni e gli accertamenti hanno condotto i militari a una società di rivendita all'ingrosso e le quasi 6.200 confezioni che sono state sequestrate avrebbero fruttato dei profitti in debiti di circa 60.000 euro, oltre naturalmente a quello che è il potenziale rischio per la salute dovuto all'assunzione di questi prodotti senza quella che è una doverosa valutazione delle autorità e delle corrette modalità di produzione e conservazione. Ci spostiamo ora in Campania con il governatore della regione Campania Vincenzo De Luca che ha divulgato un messaggio chiedendo delucidazioni al governo italiano sull'utilizzo di AstraZeneca. Ha detto il Presidente che il disastro comunicativo e le decisioni di altri paesi stanno determinando un crollo con la somministrazione di questo vaccino. Invitiamo il governo a decidere sull'utilizzo di AstraZeneca per evitare ulteriori ritardi e questa situazione, ha detto il governatore, rende ancora più urgente e rapida la valutazione su un altro vaccino, quello Sputnik. Ogni giorno perduto nella valutazione di questo vaccino è un atto di irresponsabilità, ha attaccato il Presidente De Luca. Tra l'altro nella giornata di ieri è scaduta quella che era l'ordinanza di chiusura con riferimento a aree mercatali, parchi e lungomare. Dunque restano quelle che sono le disposizioni emanate dal governo con riferimento alla zona rossa in cui la Campania si trova ancora. Ora un fatto di cronaca a Benevento. Sono due cittadini che avrebbero effettuato una vera e propria spedizione punitiva nei confronti di un loro conoscente andandolo a colpire più volte con una mazza da baseball e sono stati arrestati dagli uomini della squadra mobile del capoluogo provinciale. Ai due poliziotti sono state notificate queste misure cautelari degli arresti domiciliari nei confronti di questi due soggetti accusati di lesioni aggravate da uso di arma impropria per fatti avvenuti nel novembre 2020. La vittima è stata ripetutamente colpita con una mazza da baseball in una via del centro cittadino. Gli sono state causate lesioni che hanno reso necessario il ricovero presso l'ospedale Sampio di Benevento. Questa spedizione avvenne perché la vittima era stata ritenuta responsabile del danneggiamento avvenuto poco tempo prima di alcune macchine parcheggiate in prossimità di un rione locale. A Somma Vesuviana da domani giornata importante perché partirà il polo per le vaccinazioni contro il covid il primo di tutta la provincia napoletana e gli anziani non si sposteranno dal proprio territorio grazie all'assistenza domiciliare H24 e inoltre con l'ambulanza della solidarietà e i volontari della misericordia. Sul punto sentiamo proprio le parole dei volontari e del primo cittadino locale. Sì, era una notizia che attendevamo da molto tempo, ci stavamo lavorando da circa tre mesi e grazie alla sinergia con la curia di Nola ringrazio vivamente il Vescovo che ci ha dato una mano grandissima per donarci, per darci un comodato d'uso gratuito non direttamente a noi ma all'ASL a questo punto vaccinale. Ringrazio la dottoressa Tavella, dirigente dell'ASL Napoli 3 Sud. Si è creata subito la giusta sinergia e abbiamo appena firmato l'atto ufficiale. Somma Vesuviana al 99% da giovedì prossimo diventerà un hub vaccinale che servirà non solo ma soprattutto i sommesi ma anche i comuni limitrofi. Non dimentichiamo che Somma si è dotata di un'ambulanza anche locale. Allora domanda, l'ambulanza quindi interagirà con questo centro vaccinale? Ad esempio se c'è una persona anziana che ha la necessità di essere accompagnata al centro vaccinale, questo sarà possibile con l'ambulanza? Non so i termini, perché loro sono attrezzati anche con un'ambulanza, con dei medici che serviranno le persone in difficoltà se c'è qualche problema tecnico qui e c'è un punto all'interno dove sarà servito il paziente che potrebbe avere qualche problema con il vaccino. Ma sicuramente la possibilità di utilizzare la nostra ambulanza Covid c'è al 100% soprattutto per le emergenze sia Covid nel momento storico che stiamo attraversando ma soprattutto se è caso sarà dirottata qui sicuramente per aiutare i nostri concittadini. Ringrazio già anticipatamente la protezione civile e il comando della Polizia Municipale che saranno compulsati da me a brevissimo perché loro saranno primi attori, i vigili per andare a prendere i vaccini al punto vaccinale di Nola e la protezione civile per quanto riguarda l'ingresso delle persone che faranno i vaccini. Buonasera a tutti, siamo qui dal comune di Summa Vesuviana anche la notte di Pasqua per dare assistenza ai cittadini di Summa Vesuviana. Per chi ha bisogno in questo periodo così diciamo con la problematica del Covid quindi a persone anziane soprattutto. Oggi pomeriggio siamo stati a casa di alcune persone che avevano bisogno di noi e abbiamo fatto dei controlli di saturazione, pressione, ossigeno e per fortuna sta andando tutto bene, abbiamo tutto sotto controllo anche quest'anno come l'anno scorso. Abbiamo fatto dei trasferimenti all'ospedale di Nola oppure all'ospedale del mare, che sono gli ospedali più diciamo vicini a noi, però per il resto è tutto bene, non ci possiamo lamentare. Quest'anno sta andando meglio rispetto all'anno scorso. A Caserta un nuovo aggiornamento della curva pandemica sullo territorio con i dati diramati dall'ASL di Terra di Lavoro nella giornata di martedì 6 aprile sono 123 nuovi positivi certificati cui si aggiungono 8 deceduti e 98 guariti. I tamponi processati sono stati 730 per un tasso di incidenza del 16,84% nel saldo complessivo. Si evidenzia un aumento di 17 contagiati sul territorio per quanto concerne le singole città. Caserta in cima per numero di casi attivi con 608 positivi, c'è poi Marcianise con 484 e Maddaloni con 473. Chiudiamo con il calcio. Il mercoledì inusuale per il gioco del pallone è condito dal recupero della giornata di campionato dello scorso ottobre, mai disputata a causa di due casi covid che colpirono il Napoli. Invece nonostante alcune positività nella Juventus è tutto confermato per la partita di stasera tra Juventus e Napoli. Il tecnico bianconero Andrea Pirlo ha detto partita importante. Adesso Juventus e Napoli hanno gli stessi obiettivi, qualificarsi alla prossima Champions League. Ci auguriamo tutti che possa essere una partita spettacolare. Per quanto riguarda le possibili formazioni, il tecnico bianconero recupera Di Bala, Artur e Mekenni fermati per motivi disciplinari prima dell'incontro contro il Torino. Scelte obbligate in difesa, Scesni tra i pali, Quadrado, Danilo, Chiellini e Delicta. Centrocampo Mekenni insieme a Bentancur, Rabiot e Chiesa in attacco Cristiano Ronaldo e Morata. Per quanto riguarda invece il Napoli dovrebbe rientrare tra i pali Ospina in difesa. Torna la coppia Manolas, Koulibaly con Mario Rui e Di Lorenzo. A centrocampo recuperato Demme insieme a Zinischi dovrebbero giocare loro con Fabian Ruiz, con Lozano che rientra dal primo minuto insieme a Insigne e Mertens, leggermente favorito nel ballottaggio con Osimen. Fischio d'inizio quest'oggi alle 18.45. Con il calcio chiudiamo. Questa è edizione del nostro telegiornale. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguo di giornata. Arrivederci. Grazie.